e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e vi auguro per un'altra volta il 2021 quindi un buon anno che sappiamo di soddisfazioni dunque detto ciò oggi ho preso una gemma rossa qua giù che per appunto la gemma rossa richiesta nel secondo livello di questo, delle lande perigliose qua giù si trovava per appunto nell'ultimo livello del primo mondo quindi ottenuto ciò ho potuto fare tutte le casse di questo mondo poi ho preso tutte le casse di questo e poi stavo facendo le casse di questo ma poi mi sono fermato successivamente ho preso anche tutte le casse di questo e anche di questo infatti ragazzi ora sono tra virgolette pieno di skin, ho sbloccato questa skin che è la skin di engine per crash e anche per recoccolo sbloccata eccola qua giù poi ho sbloccato questa via si sblocca con il livello che mi mancava fa questa sbloccata con il primo livello dei pirati questa con il secondo livello dei pirati e poi credo basta se ne sbaglio si dovrebbe finito qui e niente quindi fatto ciò adesso possiamo andare nel terzo mondo giapponese direi che per questo mondo potremmo usare l'artista vi dirò non l'ho mai usato facciamo semmai un livello un tizio non lo so cioè vorrei fare tipo uno a tema però non non saprei ah aspetta ho sbloccato mi sa anche qui allora no questa no non ho scritto proviamo iniziamo con l'artista dai fai una giravolta e ci eravamo fermati qua giù ok probabilmente già dal primo livello diciamo otterremo la possibilità di iniziare a capire la funzionalità di Asako se non sbaglio Anako non so come si chiamava insomma della maschera viola quella lì pesissima quella tristissima incredibile allora ripensandoci voglio fare i livelli diretti so che lo dico in ogni episodio però vorrei veramente cercare di fare in questo modo così da assaltare morti inutili o pezzi di video che non hanno senso ecco l'oni l'oni l'onore l'onore e' l'onore 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 se questi zucconi non avessero bucarellato la realtà ora apriremo anche noi dei bar invece ci tocca prendere la strada lunga ma sento che c'è un altro vargo nero embrio ok due cosa scusa duecentododici casse ma cosa c'ho che cosa c'è di di donna ok spacca spacca tutto sta cosa ho capito credo che si possa usare ok ok sto inizando a capire cose ok vabbè è un piacere ragazzi molto molto bella sta è tipo una gira volta continua quindi teoricamente teoricamente non ho capito niente che bello che bello ragazzi come ho già detto ecco in questi casi si fa proprio a pie pari come è simpatico eh ok continuiamo salta crash ma così eh madonna ok 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 c'è point giravolto scura poi doppio salto eh la madonna ti va a fare salti chilometri sta cosa buono buono non ti eh eh l'avevo capito perché fai sfodere tutto quindi stai zitto silenzio scienziato oh ma credo di dover andare qua giù ma qui c'è roba l'ho vista ah vabbè la giamana vabbè tanto nascolta non era però non mi lamento ok qui credo di dover usare la doppia giravolta va bene procediamo ok oh pensavo che ti facessero rimbalzare ah sono piante carnivore no ok alcune sono piante carnivore quelle col fiorellino e con i denti sono piante carnivore le altre no stai zitta ok non c'è niente eh tanto non so manco perché li prendo a casa perché tanto ok qui c'è un bel jump aku aku ok se mi vedete un po' più schillato che è successo ok eccola di nuovo la maschera eccola aspetta 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 che qui secondo me ci potrebbe essere altro che caso ah bello madonna l'ho buttato via ah ho capito che ci servirà tanto questa meccanica cambiamo perché se no qui fa esplodere tutto e muoio malo e non vogliamo ciò qui sopra ah guardate si scoprono co ecco il problema di questa maschera a quanto sto vedendo è che non si ferma cioè non riesce a stare fermo e se non scappi ti ammazza oh oh tua madre se fosse la lampada del dottor Brioli oh oh orca macchina via 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 orca oh zitto madonna l'ultimo secondo mi sono salvato orca vacca no vabbè ragazzi è da pezzi dove vado dove vado dove vado dove vado dove vado eh vabbè meno male il search point ah non parli eh ok ah ma in effetti però basta fare così cioè basta interrompere la maschera teoricamente e ci dovremo essere ottimo buonasera tnt nel dubbio vi faccio ok lasciate perdere ok e voilà ok andiamo di qua calmo ora facciamo così eeeh no vi assicuro che è difficile eh perché la maschera non sta ferma cioè vedi mentre salto io posso sta fermo con la maschera ciò non avviene ok senti ma si può fare eh sì certo ma se mi brucio i salti così e se mi brucio i salti così se mi brucio i salti così non sono furlo ah quante volte che poi io ho sto visit quando iniziamo a morire non lo smento più perché faccio le cose di fretta e questo non è una cosa positiva è buono rallenta crescino buono ok adesso teoricamente posso fare così risaltellare rallentare non so madonna via 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 qua giù qua giù vieni qui ole no disegno di tutto checkpoint assolutamente bella la maschera ah questo si attiva in automatico eccolo ecco tipo questa invece no questa vai veloce bella lì e questa si reattiva e che ansia però tip ok vai la giornata si è già presa cosa fa mi segue oh ma ti sei pazzo qui c'è il livello bonus che guardate faccio solo perché così mi considera il checkpoint ok 31 camada non ce ne frega si si bla 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 non ce ne frega niente ci proviamo tanto scialla vale non mi interessa niente ma no mi sono buttato via una qua così vabbè senti è stato bello molto interessante veloce su ok ci siamo così ci ha considerato il checkpoint qua giù succedevano cose ok non tattivare aspetta aspetta checkpoint ok ci abbiamo uca okano oh ma basta ma si può tipo distruggere ma non fa silo se torretta non so se ti fosse capito ah infatti che c'è tipo un passaggio qui che forse ci semplificherebbe la v eh si ma spara raffica te ma sa che secondo me mi conviene veramente fare il scusate ma se faccio così ma vanna ah quanta pazienza ragazzi quanta pazienza è mh c'ha che cazzo qui da sei tu muori cagnolone allora ok ora qui maschera e voliamocene via da qua checkpoint non mi dispiacerebbe ciccio ok adesso andiamo di qua mamma mia mi immagini i porchi che dovrò tirare quando dovrò fare tutte le casse sono 200 madonna ragazzi no da qui porco schifo e la madonna mori a quel bel paese adesso andiamo qua giù ok usiamo questo adesso qua giù si può andare qua giù ole altra ninfea ecco ora lì dobbiamo aspettare il timing giusto ciccia scendi bravissima il problema è che il cerchio e r1 hanno la stessa funzione il checkpoint non te lo danno perchè sono infami nel profondo ciao bello oh ha un fame meno male c'evo il potere se no ma mamma ma questo checkpoint c'era anche prima una che me l'hanno messo perchè hanno visto che c'ho molte difficoltà in questo lì bello madonnina vai veloce ciao bello vada qui dobbiamo andare qua giù ok vai 85 case uno schifo ma tanto ve l'ho detto non sono qui per fare le casse la maschera però però intanto ho trovato la gemela che vabbè ragazzi come dice una scossa si fa per dire ah non so se riusciremo già in questo episodio a battere embrio ci proveremo teoricamente si perchè se non penso alle casse a tutti questi mazzi vari ce la dovremo fare intanto vi ricordo di iscrivervi al canale eccolo lì embrio ok qui abbiamo il livello contona se mai ragazzi questi livelli contona ce li affrontiamo poi a fine gioco fa con calma cambiamo skin ci mettiamo questa qui rock botanze mettiamoci il capitano cacciatore di bottino vai fa con calma vedo tipo una scalata incredibile spero non sia fateli ma lo scopriremo solo vivendo intanto vi ricordo di iscrivervi al canale con fame e male è gratis e a noi ci fa piacere e ci sprona a portare contenuti perchè ora col nuovo anno siamo anche ripartiti alla grande come avete visto partendo da crash ma gli altri poi porteranno altre serie ok c'è dove entrare a casa qui già la situazione si fa più con calma guardate la che pro gamer e qui ci sono oh drago stai zitta drago 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 bellino drago bellino vattene un po' quel paese ok orca vacca che angio però oh drago buono drago bello oh mori se vabbè ok checkpoint non è stato traumatizzante per ora non ancora ragazzi non ancora ma non guffiamocela perchè io io funziono io sono strano cioè la prima volta è quella che riesce meglio poi poi ballo un botto di voi ma di qua c'è roba buongiorno anche a lei senta vada a quel bel paese oh ma caspita voglio sto qui ah oddio meno male fatti cavoli tua e vai qua giù vai vai olè olè due caspita sono non lo so comunque vorrei io è tutta una grande e grossa scalata ninininininini no 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 madonna santa ragazzi questa è pazzia qui c'è una liana una bellissima liana schivala vai attivati attivati no ti sei un paccio maniaco madonnina ok 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 buonasera anche a lei da qui eh ragazzi ve lo ho detto che tanto prima o poi morivo perché la strada non la so quindi era inevitabile la mia morte adesso sappiamo che queste qui crollano magari se ti riuscissi add arrampi ca poi una volta che sono morto ne muoio 500 quello io non l'ho mai capito ragazzi spiazze però è così ok al volo prendila bravissimo lui vai embriamo infame però lui è suo bel cugino ok ok salve a lei spacca tutto spacca tutto spacca tutto e la ma 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 dove sono ragazzi la videocamera è tipo bagatissima vabbè oh gesù cioè ora ci si mette pure la videocamera cioè si la videocamera e la telecamera buonanotte allora da che vorrei sconfiggere en brio veloce veloce a questo punto dobbiamo fare il saltellino quello famoso maronne mie maronna madonna madonna allora dobbiamo andare di là vai suonate il vostro gong vai bravissimi che sapete suonare un botto ok no madonna ragazzi quella maschera quella maschera che ansia che non si ferma quella maschera quella maschera non si ferma ragazzi quella maschera non ok ferma sali 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 prendila la leana vai ok presa qui presa qua giù presa qua giù esci fuori magari che dici ok salve tizzi col gong che caspita no ti prego da sicuro che questa parte non è facile va sicuro che non è facile ma io ci provo ragazzi però è che è un casino sinceramente è un casino ma qui sfruttiamo al meglio le piatta forme ok ma tanto il problema non era lì ma è questo punto qua giù bellissimo ho perso anche la maschera l'immortetua tua mannaggia a te è artugong bastardo si checkpoint 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 si 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 godo 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 buono 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 che caspita sei tu no oddio sei ridotto perché sto impazzendo allora 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 e non sto facendo le casse l'immortetua è di tuo cugino bellissimo dov'è il checkpoint datemi il checkpoint ah il naso di cortex cioè che qui ci dobbiamo arrivare senza morire ma tu sei pazzo io sono già quante morti 8 morti orca mi scordo sempre che con la maschera non ti fermi mai cioè ti fermi non ti fermi mai vai vai bello vai bello vai bello vai bello vai bello vai bello vola 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 ok 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 mo che dobbiamo fare dobbiamo arrivare probabilmente laggiù vai si vola togli ma qui ti dobbiamo passare allora se c'hanno ok non è c'era qualcosa di segre oh madonna checkpoint checkpoint spaccalo ok 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 non sono morto da un checkpoint o un altro no la maschera mi faceva comodo aspetta 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 torna indietro che la maschera mi fa comodissimo ok grande uca uca lui c'è sempre per me poi facciamo così madonna ragazzi madonna adesso prendi la maschera vai via il problema è che la tridimensionalità di questo gioco frega la maschera se n'è andata per fortuna adesso madonna è un inception capisci capisci niente ragazzi mi sto con si stanno intrippando gli occhi sinceramente no 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 ho cambiato idea sali qua giù vai 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 via 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 chi vi conosce 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 checkpoint bellissimo questo checkpoint lo adoro eh quello non ce ne ha bisogno tanto per il checkpoint ok ok calmo 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 non c'è fretta non c'è fretta buonasera anche a lei cane infame uccidilo oh che c'è qui e che c'è la gemma nascosta quanto godo quanto godo ho tolto la gemma nascosta ok allora qui abbiamo un robo non mi mangiare mannaggia a te non so se mi ha ciulato un acco acco quanta gioia c'ho nel corpo ragazzi allora boni stare boni stare boni dammi la gemma bastardo dove c'è la gemma ah perchè è ver giù sono già presa togli te togli te ok ora ciao bello ok si vola qua giù checkpoint qui sopra lo voglio subito ottimo fa cattuto chi è che urla con questo fare minaccioso dobbiamo salire sali eh si ho detto sali no di nuovo quelli col gong li odio ragazzi li odio via no tua madre no vabbè ma che bastardo no vabbè ragazzi ma si può essere così bastardi ma dai madonna ok vai a cagare vai take her gong to donna armuso via no 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 ti prego ti prego ti prego ti prego no ragazzi è è un trauma è un trauma io lo sapevo io lo sapevo io lo sapevo lo sapevo buono 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 via 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 rischiamocela rischiamocela un pochino ti prego gesù cheat forse in questo livello riusciamo a sconfiggere anche embrio se continua a sognare dai suona sto gong mannaggia a te ti prego ti prego oh si oh si sto godendo non mi rompere il drago ci si è messo pure il drago ci si è messo pure il drago mannaggia lui pure il drago perché non è che non bastava non bastava il cosa il gong il mister gong uccidenti si 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 dove andiamo ok do andiamo lì che ovviamente lo sta si sta sgretolando il pezzo di legno ok lo sta lì ancora ti prego ti prego ti prego ti prego checkpoint oh mio dio oh mio dio io ragazzi ma tua madre ma scusa ok no mi rompere sono una brava personcina ma poi quando finirà sto livello ora capisco ragazzi sono anche solo 139 casse a una certa dovrà finire no non è che è infinito sto live eh però sono morto e sono morto 16 morti senza pensare ai casi livelli buoni ok io però cane del rospo ti devi togliere dai tre passi via 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 se non se ne va lui se non se ne va andrà via noi ora via da questo bel mondo bellissimo guarda mi rompeva oh ho cliccato sullo cerchio ho cliccato sullo cerchio madonna ragazzi madonna ragazzi veloce fregatene fregatene vai via 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 chi vi conosce chi vi conosce chi vi conosce toliti 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 non me ne frega si 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 basta basta non ne voglio più sapere non ne voglio più sapere di questo livello non ne voglio più sapere anche in sto livello ho trovato la gemma nascosta non so come oh mio dio voi siete pazzi ragazzi voi siete pazzi ma io come farò a fare tutte le case ma poi soprattutto come farò a non morire ragazzi cioè come farò a non morire perché anche non morire oggi è diventato difficile via proviamo sta skin e poi comunque ci teniamo quella lì sbilanciamento poi teoricamente dopo questa c'è il boss io non so se ci arrivo ve lo dico perché se questo livello rientra come quello di prima non lo so sinceramente se ci arrivo però ci proverò diciamo tipo credo a 20-25 minuti di wreck ma andiamo avanti che trauma ragazzi che trauma poi vabbè ci si anche prende la mano perché tipo se avrei facendo i livelli che ho fatto ieri insomma me la capo molto meglio però come prima mancia è veramente un trauma è quel coso lì che quel fantasma lì è normale non è normale buona giornata vera ok buona zitto mi l'hai fastidio quante casse sono 100 oh ma qui è una bonda aspetta voi te corri 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 fregate fregate via 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 che ti conosce te eh x ok ciccio eh avrei fin vabbè non sembra tanto complicato il tip ok 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 metto sempre dinamiche nuove il che è è comunque carino dai zitto ti prego ok eh uca uca mi serve ua 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 non l'ho ancora capito queste tutte queste mele la visuale non aiuta me le spacchi delle casse molto gentile ok checkpoint salve salve si le voglio tanto bene eh qui non credo devo andarci no no infatti eh ah ma così sono tipo flash sono piattaforme flash madonna ok non c'è ancora trovato la maschera la maschera a cano ucano ucano ucan ucano 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 oddio ragazzi oddio ragazzi oddio ragazzi non capiterà mai sottragghi e io parlo 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 io ragazzi devo stare zitto battare va ok 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 siamo vivi siamo vivi ah ma che quanta gioia ho nel corpo nel vedere via oddio il nastro ho pure preso ragazzi non sono mai morto ma seriamente non sono mai morto no vabbè cioè questa è un evento più unico che è raro corri 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 fregate fregate te però devi star zitto che mi da fastidio la tua voce schifosa ok c'è livello guarda come ho fatto prima lo tengo solo per per checkpoint nel caso morissi anzi guarda tanto che non me ne frega tanto ragazzi le casse non le ho prese quindi c'ho belli ottimo me lo tengo solo come checkpoint veloce magari bravissimo lui ok ora dove devo andare ragazzi dove cos'è ah di qua madonna non capivo infatti dove devo andare mi devi rompere bravissimo che non mi rompi togli ah pure aiuto 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 eh sì certo eh sì certo senta il checkpoint mi serve a me sì certo calmo calmo e spacca le sticas madonna ok credo di poterci fare anche con crash senza la maschera buonasera anche a lei godo come un rich questa non la tocco molto gentilmente e io come facevo a saperlo scusate eh io sono un genio c'ho scritto genio nel muso eh ovvio ok ovvio da qui dov'è che si andava adesso giusto sì no tua madre era molto carina ora però battere un pochino ma sbaglio qui sopra c'è roba scusate ah se c'è una cassa ma guarda che bastardo allora facciamo così quindi teoricamente non voglio fare le tre morti gioco cioè non sono mai morto finora ora per quella parte l'infame non voglio morire te lo dico gioco non mi fa far figurette perché perché sono andato perché sono andato a impasticciarmi lì perché perché io stavo bene così e invece no e invece no e invece no togliti di mezzo togliti di mezzo lurido cane ok dicevo stavo bene così e invece no mi dovevo complicare la vita ti prego sì 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 tua madre fuori infuata vai checkpoint con calma quando avete via 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 spacca vai ok ok eh sì c'è il ponte guarda 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 come corri 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 che ansia non ho manco visto che c'era il drago pensate un po' voi mi sta andando di iper lusso ok non sapevo se potessi ok che bella questa maschera mi era mancata non è vero non mi era mai mancata ok infatti non sapevo per andare altrimenti Ma sarò furbo Ma sarò furbo Ma sarò furbo Quanto sono furbo ragazzi Ok veloce Allora quindi dovevo andare tipo qua giù Bravo togliti Ho capito Si gioco Perché mi hai preso scusa Te sei un pazzo gioco Sei un pazzo maniaco Togliti di mezzo Ho capito cosa vuoi fare Madonna No vabbè ragazzi Ti gioco un pazzo Veloce Dai Oh un anno per Montare la zattera Dai che forse ce la facciamo veramente Quante casse Quanto sei brutto Ok Grazie per il frutto Checkpoint Togliti i mezzo Scienziato pazzo Eh se non mi guarda non mi frega niente Veloce Via Quante maschere dobbiamo cambiare Non ci credo Non ci credo Oh ma che bastare L'hanno calcolata Al centesimo di Cane del rosco Togli le case va Aspettiamo Via 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 Allora Dicevo l'hanno calcolata proprio al millimetro Sì infame Allora fermi Olè Stavolta non mi faccio pregare Tamer L'ho preso solo per acu waku Uca uca Come caspita ti chiama via 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 che mi conosce Oh Ma vai cagare Eh vabbè E son morto Son morto tantissimo Son morto tantissimo Disattivati Quanta gioia c'ho nel corpo Potevo andare via 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 Vai Ciao bello Ciao bimbe E ciao bimbi Vai Eeeh Bello Ecco i casi da doveri fare io qui For Cristo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Neanche in così tanto tempo eh Da notare Ok Tratta la giamina Non ce l'ho fatta Però ho trovato il nostro flashback Quindi procediamo Procediamo Un botto E E ragazzi Affrontiamoci Embryo E poi direi di concludere qua Ok Eccoci qua Boss fight Sbilanciamento Andiamo qua giù Con Guai in vista Ma la faremo con La skin di Enjin Questa è Molto pazzarella Vai Guai in vista Quanto è brutto Madonna Alla testa Più alla tisa Allora Vediamo Quanto è vita Scusa 3 7 Ma come 7 Ma che cazzo Devo fare No Dai sì certo Non mi muovo Guarda Tranquillo Non mi muovo Mia E Ah ok Non è Non è Ok ok Ma si complicherà Poi aggiungendo le maschere Tutte le cavolate Ne vale Ciccio Quando devo buttare La cosa verde Non mi lamento Bravo Ok Ne abbiamo tolto 3 tac Ne mancano 4 Che cazzo E sì certo E sì certo Dove siamo Ok Ok Devo lanci una tacca Ok siamo tornati In una forma Ragazzi Non Ok Ah Mi sembrava Eh mi sembrava Troppo facile Buonasera Hulk Oh E sì certo E sì certo E sì certo Ti stancherai una certa No Ok Ok Mi ho tolto Una Una tacca Ah puoi fare Ah lo dobbiamo buttare fuori dal ring Vai quel bel paese Vai Ok Un'atacca tolta Eh Buonasera Anche a lei Madonna Cattivissimo Oh e karma Di un attimino Bravo Bravo cucciolino Bravo cucciolino E bravo Cucciolino Ne è rimasto Una Dai 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 Che Ok Vabbè ma Questa signora Non è che mi complica la vita Cioè Ha una grafica un po' più diversa Ma cioè Nel senso Non mi complica La vita Ciccio Arutu Ok Bravo Moro Vai Battuta Il più in tentativo Sì Master Miscelatori Vabbè Non è stato difficile Lanza Il più in tentativo Ma Ma con l'uovo va bene ragazzi vi dirò 5 minuti è stato più difficile tutti i livelli che ho affrontato finora che il boss wow ci ho messo 5 minuti a questo punto vi dirò possiamo anche tentare un livello nuovo cos'è ma perché hai riempito di gemme ma che cazzo modalità invertita e sbloccata giochi a livelli che hai completato come piace a embrio invertiti questi livelli al contrario pieni di frutti bomba ti faranno girare la testa e non dimenticarti aspetta ti puoi giocare tutti i livelli ma invertiti oddio ma che eh la madonna dove sei tipo una palun skin crash il classico sbloccata vai nel mio skin fai un po' vedere qual è qui ah scopri gli effetti del boss di embrio oddio ma che sconfiggi embrio invertito beh c'è molta qualità in questa skin va bene ragazzi ma vedendo che non possiamo anche provare a fare un livello con coco che però non c'è anche lei si è sbloccata in ver- no mh ok finisci in gioco vabbè boh eh vabbè facciamoci la sua versione pazzarella così oppure così no così non mi piace però così ma cioè è che non mi piacciono tanto gli skin di lei cioè possiamo farci no facciamoci anzi questa qui madonna un livello con questa qui per tornare siamo nel pantano delle zanzare qualche giorno fa anticonformista via facciamoci questo livello normale e poi concludiamo e chissà chi sarà il boss di questa giorno intanto non c'è neanche trovato la maschera cioè però abbiamo trovato l'ucano e l'analoni madonna quanta poca qualità 215 casi ma a te si è pazzo eh sì ok per ora non c'è nessuna difficoltà perché qui mi mandi di qua eh vabbè io che mi aspettavo chissà quale difficoltà quando in realtà la difficoltà non c'è semplicemente quindi ma porco cane ok lo posso dire porco cane ok vai se c'è in tutto il livello così senza mossi mi faccio la gemma delle vite easy proprio ok mando caso da schiamo ragazzi al concerto di natale eh nope 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 cosa significa scendi 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 non so cosa cosa faccia se io le faccio arrabbiare via 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 che cazzo da fa Eh, tira i botti No, porca vacca Checkpoint Vacca Ok, ok No, vabbè ragazzi, mi sto andando di un luso Eh, guarda che l'ho vista la nitro Buonasera giocolieri Fate come vi pare Ok Madonna non avevo visto la tegola Buonasera, lei cosa fa? Ah, devo entrare qua di sopra? Ok Ma noi stiamo in un circo ragazzi Oh, e spara Checkpoint Beh, oh ragazzi, mi sto andando di russo Beh, non mi si rompa le scatole Vai Vai Ancora Eh, vabbè Mi sono diventato un pagliaccio Vabbè, ma quello sono io? Oh, spara, sì Eh, vabbè Checkpoint Ah, ma non ti permette di saltare? Eh, so sai, scusa Eh, mi metti meccaniche 9 E le devo anche conoscere, no? Non è che Mo Poi Mi puoi Pretendere Chissà Cosa Ok Va bene Buonasera Madonna, me lo sto per prendere in faccia Togliti Beh, vabbè Cinque ore ci sta Madonna Si fa notte Sì, sì, sì Ci ho fatto Hai, spacca questo Senti, queste io le toglierei Perché mi hanno già rotto Ok Quindi ora c'è lui Non so se si può Se si possa togliere Ok, si può togliere Senta Ma ha rotto le scatole Ok Non so se si ripresenta Non credo Non credo Perché a sinistra non si è ripresentato Bravo Si tolga Di lusso mi sta andando Di lusso Di una fortuna incredibile Madonna Che dobbiamo fare qui? Ok Qui c'è il tamburello Ah Un checkpoint non mi farebbe male E neanche schifo Ok Qui c'è il tizio che suona Contanto lui Perché devi rompere? Bravo Sto demoralizzato Ah Vacca voglio Vai Via Checkpoint Quindi non c'è bisogno Di prendere il bonus Salga, salga Ok Facendo in questo modo Cosa cazzo ti ho fatto? Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Che anzi Che anzi Che anzi Che anzi Che anzi Senta signore Non mi metta Anzi anche lei Mi spari tutto E spari Su Ma il checkpoint Ah eccolo lì Infatti mi chiedevo Ancora E ho capito E quanti Saltellini ti ho fatto Sorella è interminabile E spari Ok Siamo alla pianola Ah Vabbè Vabbè Easy Allora Yes Yes Uca uca La voglio Scusate Madonna Non l'ho vista Faccio salire Molto gentile Mount Non so perché Sono qua giù Via Ok Comunque è bella L'ambientazione Mi faccia salire Su Poche storie Le Boom Ok Credo di aver capito Quindi dobbiamo fare così Così Poi Salga 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 Non cincischi Così Ok Madonna Facciamo così Facciamo così Mi facevi cascare Infamello Checkpoint Oh ma Arriveriamo alla fine Che dici Oh sì Certo Poi No Ragazzi Ho preso Dai Questa è una giamma delle vite Buttate via Gioco Sono un infame però Cioè Dai Avevo cliccato X Che boia Fammi esplodere Avevo cliccato un botto X To Oh Oh Fazzi maniaci Maiale Ma che boia Ma c'hanno la vita Della vita Ti muovi cannone Guarda di me Tessi Dobbiamo perdere tempo Su ste cose Vai Ci risiamo Altro giro Altra corsa Ma perché tanto Prende caso Non ho preso Manco Ok 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 Mi sto confondendo Mi sto confondendo Mi sto confondendo Non mi rompa 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 Cosa cazzo significa Cioè Ok Ok Ancora No non ci credo Non può No ancora Ma se mi vede in giro Ancora No ma Ma son pazzo Sparami un po' Vabbè dai Facciamo durare In eterno eh Perché ha Perché Dietro In background C'è gente Che fa robe No vabbè ragazzi Ma questo è impossibile Da Da Prendi tutte le gemme Perché Ti confonde Troppo C'hai le ocche Che Non te li trovi più Ragazzi Cioè Madonna No E' pazzia ragazzi Pazzia Bella l'ambientazione Ma Cioè Ti confosi tra quelli dietro Quelli davanti Mannaggia Scendi Risali Salta Che il problema Sono questi Che sono infamissimi Vai Salta Salta Non farti prendere Risalta E vai Risalta Ci riscendi Salta Scendi Ah ok Ah ok Mi ha considerato No perché Vada Vada Mancava Se non me l'avessi considerata Oh mio Dio Basta 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 Sono traumatizzato Così Sono traumatizzato Così Ci fermiamo Ci fermiamo Prima Potrei fare un altro Ma no ragazzi No ragazzi Sono traumatizzato Veramente Quindi Appena caricato Vi dico Che Con molta pazienza Ok Dai si sta caricando Per questo video È tutto Lasciate like Se vi è piaciuto Commentate Iscrivetevi In un'altra prossima Con un prossimo video Un saluto E ciao a tutti